In Capitanata chiudono gran parte dei centri per l'impiego, una decisione che fa sollevare denunce e polemiche che evidenzia un disinteresse per il territorio foggiano. A sollevare al momento la denuncia contro il governo pugliese è il consigliere regionale Gian Nicola De Leonardis di Fratelli d'Italia, che parla appunto di disinteresse e abbandono da parte di Emiliano e dell'assessore Leo per la Capitanata. L'ennesimo esempio è la chiusura degli sportelli per l'impiego in alcuni comuni del Gargano, dei Monti Dauni e del Basso Tavoliere, uniche zone dell'intera Puglia interessate da questo atto, peraltro, posto in essere in un ambito quanto mai delicato, come quello delle politiche del lavoro, in un territorio, quello della provincia di Foggia, che ha invece bisogno di presiglie e di risposte. Ha detto il consigliere regionale De Leonardis, che poi aggiunge, la PEC da parte di Arpal, attraverso cui vengono comunicate le chiusure imminenti delle sedi in alcuni comuni della provincia di Foggia, sono già state inviate nei giorni scorsi. In alcuni casi gli uffici dovrebbero essere accorpati e ubicati in sede non in one, poiché sprovviste, ad esempio, di riscaldamento inaccessibili ai disabili, oltre che di difficile raggiungimento da parte degli utenti, considerate le criticità del trasporto pubblico, tanto nelle zone garganiche quanto in quelle dei Monti Dauni. Il presidente Emiliano e l'assessore Leo, addetto De Leonardis, spieghino perché questi atti sono stati posti in essere solo per la provincia di Foggia. E soprattutto, continua De Leonardis, si adoperino Emiliano e Leo immediatamente per evitare questo autentico scippo. La Capitanata conclude De Leonardis ha bisogno che le politiche del lavoro siano implementate anziché impoverite.